Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books che è proprio il caso di dirlo, visto che è il primo video dopo tantissimo tempo oggi parliamo di che cosa sto attendendo, cosa uscirà fare un po' una programmazione dei libri che sicuramente andrò a leggere nei prossimi mesi molti li sapete già, immagino, ne abbiamo già parlato a inizio anno eccetera eccetera altri invece sono cose che mi hanno incuriosita nell'ultimo periodo direi che visto che è passato un po' in primis vi ricordo che se volete supportare il mio canale potete farlo innanzitutto iscrivendovi e attivando la campanellina in modo da essere sempre aggiornati quando escono i miei video giù trovate anche nell'info box i miei link di referral ad Amazon che se voi acquistate tramite questi link io ne guadagno una piccola percentuale che mi aiuta ad acquistare cose per fare video oppure per parlarvi di altri libri oppure se volete semplicemente offrirmi un caffè perché vi sto simpatica c'è il link a Ko-fi fine delle reclama ora partirei con il video che cosa sto attendendo partirò dalle uscite italiane e poi passiamo invece alle uscite US, UK insomma classiche, solite innanzitutto il 3 settembre penso che lo sappiano anche i muri di tutte le case che hanno assistito a tutti i post che sono usciti su Instagram, Facebook eccetera esce Nevernight di Jay Kristoff ovvero la trilogia dell'Illuminotte e gli accadimenti di Illuminotte ecco io ho appena finito quest'estate di leggere Dark Dawn e non siete pronti se non l'avete letto non siete pronti a me è una trilogia che è piaciuta molto e che anzi consiglio lo già consigliavo sia il primo che il secondo volume ora che l'ho finita così comunque presto uscirà anche un video al riguardo in modo da finire di scassarvi le balle anche su questo canale e che sarà un po' una sorta di manuale di istruzioni su come prendere questa serie detto ciò io non vedo l'ora finalmente una ottima uscita che arriva anche in Italia e quindi secondo me è una cosa che dovete puntare io personalmente non vedo l'ora il 10 settembre esce per Ponte alle Grazie per un prezzo di 19 euro The Testament ovvero i testamenti di Margaret Atwood che è il seguito del racconto dell'ancella che chi come me ama profondamente questo libro diciamo che insomma che era un libro senza un vero e proprio finale perché è spoiler forse però insomma diciamo che il racconto dell'ancella lascia tutto molto aperto non ha una vera e propria conclusione che ti dice già che cosa accadrà poi è tutto molto sospeso e so che per alcuni questa è una cosa problematica invece per me è stato bello anche vedere come se avesse quasi fermato un frame nel tempo comunque uscirà The Testaments che io non vedo l'ora di leggere penso che proprio il 10 settembre pronti ai blocchi di partenza sarà già sul mio Kindle non vedo non vedo l'ora oppure se non c'è la versione digitale andrò direttamente in libreria per prenderlo insomma sapremo che cosa ne è stato di Fred poi arriveremo anche a parlare della serie prima o poi parleremo anche della serie perché devo finire ancora le ultime due puntate di questa terza stagione e ne parleremo tutti insieme e poi finalmente 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 il 24 settembre escono i miei bambini escono i miei bambini non so come essere più felice di quello che già sono esce 6 di Corvi per Mondadori e io ve lo giuro che non vedo l'ora tanto che ve lo preannuncio usciranno tanti video dedicati a 6 di Corvi perché secondo me è la serie per ragazzi meglio scritta che ci sia presente in questo momento sul mercato e quindi io mi sento davvero molto rincuorata nel consigliarvela e non vedo l'ora non vedo l'ora il 24 settembre segnatevelo cioè l'ho già detto eccetera sarà il prossimo libro del Miss Fiction Book Club e ragazzi cioè io sono troppo felice tra l'altro esce il 24 settembre 6 di Corvi a un mese esatto di distanza esce il regno corrotto ovvero Crooked Kingdom quindi saranno delle bombe perché saranno bellissimi eh poi a ottobre il 9 ottobre precisamente se non faccio casino esce Le Memorie di Babele ovvero il terzo volume della saga della Traversa Specchi di Christelle Dabot che ci aveva lasciato così in sospeso con gli scomparsi di Chiardiluna ed è cioè effettivamente non è neanche trascorso così tanto tempo sono super curiosa perché il secondo me era piaciuto moltissimo anzi vi lascio qua sia la recensione delle Memorie di eh delle Memorie di Babele ancora non l'ho fatta sia la recensione degli scomparsi e la mia vecchissima recensione di Fidanzati dell'Inverno è una serie estremamente interessante a mio parere ha molti spunti nuovi ha molti spunti inusuali molto originali e secondo me è una serie che merita che vi piaccio meno insomma secondo me è una serie di quelle che meritano attenzione ecco e io non vedo l'ora di leggere il prossimo perché scomparsi ci ha lasciato vabbè il 29 ottobre esce come vi avevo già anticipato Crooked Kingdom ma lo stesso giorno esce anche un libro che io punto penso da quando uscì in America perché ha vinto il Man Booker Prize ed ero molto curiosa bla 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 comunque insomma sto parlando di Leopardo Nero Lupo Rosso di Marlon Brando è un libro che davvero secondo me cioè dividerà molto perché è quello che è successo all'estero sono super curiosa lo sto leggendo in questo momento quindi insomma uscirà fine ottobre metà ottobre cioè la data precisa dovrebbe essere il 29 comunque insomma vedrete tutte le conferme io gli dedicherò un'intera recensione perché ci tengo molto penso che sia un titolo tra i più interessanti di quelli che usciranno in Italia quest'anno e quindi anche quello esce per Frassinelli quindi Mondadori comunque Mondo Mondadori curiosissima davvero curiosa e segnatevelo perché secondo me è uno dei titoli più interessanti dell'anno poi visto che lo sappiamo che lo sappiamo da mesi uscirà a dicembre attorno al periodo natalizio il priorato dell'albero delle arance di Samantha Shannon che io ho già letto e c'è una mia recensione dedicata se siete curiosi forse la Tiffany del futuro ve la linkerà qua sopra forse fallo Tiffany fallo e praticamente è uno dei libri che a me è piaciuto di più quest'anno uno dei pochi a cui ho dato 5 stelline quindi penso che l'abbiate già puntato è un mattonazzo mattonazzo gigante accattatevelo ok non fatevi scappare questo libro perché secondo me sarà un'uscita pazzesca insomma anche lì di nuovo grazie a Mondadori che ci porta un sacco di gioie quest'anno poi da che so anche se non c'è una data precisa uscirà Vicious di Victoria Schwab che è l'unico libro di Victoria Schwab che attualmente mi interesserebbe leggere ce l'ho già in realtà in formato Kindle in inglese che lo comprai un po' di tempo fa non l'ho ancora iniziato e sono molto curiosa di leggerlo ho molte cose prima da finire sono contenta che arrivi in italiano perché a quanto pare è uno dei libri migliori della Schwab che non è un'autrice che io amo e non mi ha mai colpito particolarmente però magari si rivelerà molto carino però non so ancora la data di preciso non c'è ancora una data precisa oppure se uscirà nei prossimi giorni magari scriviamocelo giù nei commenti che cosa esce all'estero invece che secondo me sono titoli dei quali si è sentito parlare meno tranne in alcuni casi e che io sto puntando per le prossime uscite insomma io guardo sempre sia il mercato estero in primis sia il mercato italiano il mercato italiano lo conosco molto poco perché io leggo all'80% in lingua ultimamente 80% prima era quasi un 90-95% perché sto diventando brava perché c'è anche una certa apertura in questo momento del mercato hanno capito che a meno che non vogliono andare a fine anno dal capo a dire ok abbiamo fatto meno 500% quest'anno stanno guardando a cosa va all'estero brave case editrici avete il mio applauso e detto ciò a parte le gag stupide all'estero uscirà parecchia roba nella seconda metà dell'anno uno dei difetti che ho percepito maggiormente quest'anno fino ad adesso è che le uscite interessanti sono state pochissime cioè a parte The Priory e King of Scars che erano le due uscite che io attendevo di più quest'anno tutto il resto è stato un grande vuoto tutto il resto erano cose che già dalla copertina si vedevano che erano fallimentari non ci sono stati grandi annunci grandi uscite insomma ma nella seconda metà dell'anno esce un sacco di roba ad esempio che se ben capisco racconta per generazioni i sette profeti hanno guidato l'umanità grazie alla loro capacità di prevedere il futuro hanno fermato guerre arrestato carestie e riunito le nazioni finché cento anni prima dell'inizio degli eventi tutti i profeti sono scomparsi lasciando però un'ultima profezia ovviamente prevedendo che ci sarebbe stata un'età molto scura che è il momento in cui arriviamo adesso fino alla nascita di un nuovo profeta e in tutto questo baradà di eventi molto catastrofici verranno messi insieme cinque personaggi che dovranno un po' capire chi sono chi non sono salvare il profeta trovare il profeta capire chi è insomma secondo me può essere interessante mi incuriosisce la cosa che proprio mi fa prendere un po' meno bene è che è perfetto per fan di throne of glass un amber in the ashes e children of blood and bone quindi tutti e tre che vabbè però magari si rivela meglio di quello che sembra la copertina è bellissima almeno possiamo dire quello invece l'altro libro che sto puntando tanto è the year of the wicked un po' perché penso sia un retelling di wicked ma in realtà me lo sto visitando solo nella mia testa in realtà non è così lo descrivono come un the chilling adventures of sabrina meets riverdale che quindi potrebbe essere una merda unica e reale e vera ma e in pratica il giovane daniel è minacciato da una strega lui è l'unico che sa che le streghe esistono pur abitando in questo paesino di provincia e la strega sta arrivando insomma si scatenerà una guerra tra i due e del circolo di suoi amici per cercare un attimo di arginare la situazione dovrà venire a galla tutta la verità in realtà emergerà che questa è una faida che va avanti da generazioni e che quindi porta con sé molte molte più cose di quello che appare in realtà all'esterno e non lo so a me è un po' ispira quindi sono curiosa quantomeno curiosa non mi espongo troppo sono curiosa perché io ho un problema cioè ormai cioè ragionamento off topic è raro che ormai io non riesca a capire già dalla copertina se un libro sarà una enorme porcata o se invece mi può piacere ecco perché di solito ormai sono standard dal titolo la copertina la tematica così quindi ogni tanto c'è qualcosa che può esulare e poi magari fregarmi oppure magari piacermi molto è raro però devo dire che ormai più o meno inquadrato soprattutto negli US ormai ce li ho proprio presenti al 100% comunque a settembre esce anche il 29 o il 24 il 24 esce Wayward Son che è il seguito di Carry On io vi ho già detto che secondo me questo seguito è inutile è fanservice puro perché non so Carry On per me era finito lì era carino quella cosa lì era posto invece abbiamo dovuto fare anche Wayward Son e non sono così carica come tutti perché secondo me era bellissimo come autoconclusiva era una perletta che c'era stata regalata stop e invece no dobbiamo farci soldi di nuovo e non lo so vabbè lo leggerò non c'è dubbio che lo leggerò comunque cioè sono la vecchia megera che si lamenta ma poi lo legge non è che a ottobre invece esce finalmente Ninth House di Libardugo che io non è che attendo allora cioè facciamo un discorso serio se mi delude Ninth House io giuro che getto la spugna cioè ve lo giuro che poi ho perso tutte le speranze perché dopo King of Scars che a me è piaciuto ma con tantissime riserve e con tantissime problematiche se non fosse che lei ha una scrittura talmente eccellente che dare un voto basso a lei è comunque darne 10 a qualsiasi altra autrice e comunque a me è piaciuto ripeto perché mi piace comunque molto la tematica di King of Scars Ninth House è la prima cosa che lei scrive fuori dal Grishaverse quindi fuori dal mondo sia della trilogia Grisha che del mondo di Sadie Corvi io sono molto agitata però sono molto curiosa primo perché è tanti anni che lei lo ha annunciato e quindi lo aspetto e perché poi ha a che fare con un'ambientazione molto diversa dal classico mondo al quale siamo abituati con lei credo che sia leggermente urban fantasy ma in realtà è più thriller insomma diverse sfumature ci troviamo in un college e seguiamo una ragazza che finisce dentro una setta segreta di un college io sono carichissima sono molto molto carica sono tutte cose che a me piacciono molto poi c'è l'esoterismo di me cioè tutto se fa schifo io giuro che ma comunque andiamo avanti a ottobre esce anche una roba che si può rivelare una schifezza in mane ma potrebbe anche essere carino c'è il nuovo libro di René Adie ovvero The Beautiful che io ho già in realtà devo solo leggerlo è una roba che ha a che fare con i vampiri come già si vede dalla copertina perché è una copertina di Twilight generica non lo so sono curiosa devo capire non lo so passiamo a novembre a novembre esce il nuovo libro di Kirsten White che avevo già pronunciato all'inizio The Genevieve Deception Genevieve come si dice cioè l'inganno di Ginevra in pratica e sono molto curiosa prima perché odio Ginevra a morte secondo perché invece amo molto Kirsten White che è brava sempre e quindi insomma eh poi è a novembre spero di riceverne una copia prima pregherò la penguin in tutte le salse perché mi piacerebbe magari includerla nelle letture di Halloween insieme a Slayer perché ancora ce l'ho da gennaio che devo ancora recuperare e poi cosa esce a novembre se non il libro più atteso dell'anno credo da chiunque cioè da me sicuro ovvero The Starless Sea di Erin Morgenstern altra cosa che potrebbe causarmi una serie di crisi esistenziali perché se Nine Tows fa schifo e fa schifo anche The Starless Sea io appendo le scarpette al chiodo e mi metto a parlare di slime e di glitter e di cagate ve lo dico subito perché due delle mie autrici preferite non possono fallire nello stesso anno ok Starless Sea io non so nemmeno di cosa parli non mi interessa saperlo io so che sarà mezzanotte un minuto sul mio Kindle e io non vedo l'ora di leggerlo sono più che curiosa sono molto 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 emozionata anche perché è passato tanto tempo dall'uscita di Night Circus e quindi voglio vedere che cosa ha prodotto Erin Morgenstern ho moltissima fiducia in lei ma anche tantissima paura quindi speriamo direi che poi a dicembre escono solo cose che non mi interessano a parte il priorato quindi siamo arrivati in fondo a questo video che è un po' leggero un po' chiacchericcio per reintrodurci nel mood anche per far un caldo boi a girare i video e niente io vorrei sapere se tra le cose che ho nominato qualcosa vi ha incuriosito e cosa state invece aspettando voi che magari io non ho visto e insomma ditemelo giù nei commenti niente se il video vi è piaciuto mettete un pollicino in alto io vi ringrazio davvero tanto per aver trascorso un po' di tempo insieme a me finalmente sono tornata a blatterare per ore su youtube e niente direi che ci vediamo al prossimo video ciao